Sono le trombe della marcia trionfale dell'Aida a celebrare un nuovo traguardo per l'Arena di Verona. Per la prima volta il concorso Art Bonus per i Mecenati del Ministero della Cultura ha visto vincitore un progetto collettivo, le 67 colonne per l'Arena di Verona. Il significato intanto è che il Ministero ha creato veramente uno strumento importantissimo per la cultura. L'altro significato importante è che tutti quelli che hanno tifato per noi ci hanno veramente dimostrato amore, sostegno e entusiasmo con il loro voto e ci hanno permesso di vincere il concorso. Ovviamente questo progetto è nato nel momento più nero della storia della Fondazione Arena, quando eravamo in Covid è tremendo, ma proprio nel momento più nero, toccando il fondo ci siamo rialzati con le idee più incredibili che forse prima non ci sarebbero venute. Un progetto collettivo che ha stretto attorno a sé 67 imprese. Il progetto è bello, proprio anche al di là della sostanza, ma perché evoca quelle 67 colonne che non ci sono più, i 67 pilastri che reggevano la parte esterna dell'Arena e che diventano in una metafora i 67 pilastri che sorreggono oggi l'Arena, quindi Fondazione Arena. Nato da un'idea di Andrea Compagnucci, Marketing Principal Consultant e del Vice Direttore Artistico Stefano Trespidi, il progetto è giunto alla seconda edizione. Abbiamo raccolto 110 mila euro più dell'anno precedente superando il milione e 6 che era la cifra che ci eravamo prefissati e che ci consente di affrontare un bilancio 2022 in maniera più serena garantendo il lavoro. Fondamentale il ruolo degli ambasciatori e fondatori delle 67 colonne. Siamo qua perché in generale bisogna oggi esserci, momento di dimissioni di massa, di smart working, bisogna essere presenti, sostenere le aziende e sostenere anche la cultura in presenza. Siamo ritornati sul luogo dove era giusto rimettere la nostra attenzione e attrarre il più possibile tutte le persone di buona volontà che in questa città credono nel nostro futuro e nei nostri giovani che sono base della cultura. A pochi giorni dall'apertura della 99esima edizione Arena di Verona Opera Festival 2022, un riconoscimento che certifica un modello vincente per il futuro, riconfermando la forza social dell'Arena di Verona, oggi il secondo teatro al mondo più presente su Instagram.